la soglia degli intrattenitori rispetto ai veri artisti si è alzata parecchio c'è anche una bella fetta di musica che non è veramente musica, più meme ci sono artisti che fanno i testimonial, francamente la loro entrata principale viene dai brand la musica può essere il modo in cui tu, influencer, capitalizzi e porti a casa dei soldi ma non sei veramente un musicista comunque le canzoni bisogna scriverle, c'è uguale tempo bisogna fare le basi, se una persona va a tutte le sfilate di moda e tutti i giorni a fare dei post e così evidentemente fa altro quando per esempio ho scritto cosplayer, scrivendo quella roba la pensavo cazzo però se dico sta roba poi si incazzano quelli, si incazzano quelli però se cominci a pensare così è meglio che smetti di fare questo lavoro a meno che non vuoi appunto fare l'intrattenitore, non disturbare nessuno è una via percorribile, anzi molto percorsa però ti ripeto sono due lavori diversi mantenere l'audacia, capito, in quello che fai anche dire certe verità se sei sposato, se hai dei figli è difficile farlo